Cervinia, spettacolo dei monti, siamo appena fatti sta salita, leggerissimo fiatone, ecco ora i monti, bellissimo video con Samsung Galaxy S2 e la roma del nostro amico Raffaele, dovresti sentire distintamente i rumori. Potete vedere, spettacolo fantastico, purtroppo stasera mi tocca scendere. Ciao a tutti, 21 gradi, 21 gradi, a fa zero, ciao!